Ciao a tutti, Rosina Andrea, candidato della lista Praticamente. La nostra campagna elettorale anche in questa tornata si è basata principalmente nell'ascolto dei cittadini. È emerso durante tali incontri la necessità di continuare ad investire nella sicurezza del territorio, in special modo per quanto concerne la viabilità. Ricordo che il nostro territorio è attraversato da due provinciali che si intersecano e creano un punto di criticità importante per quanto concerne il territorio e la vivibilità del territorio stesso. È già iniziato un programma con la provincia in questi cinque anni, un programma che tenta di porre le basi per la risoluzione di alcuni di questi problemi e che proseguirà in maniera serrata nei prossimi cinque anni. Ritengo anche opportuno investire sulla viabilità per quanto concerne gli attraversamenti pedonali. Il nostro programma elettorale ha permesso la creazione di alcuni dossi e il nostro impegno sarà quello di proseguire in questa strada. Grazie.